C'è una lettera introduttiva all'inizio della brochure che riporta una ad una tutte le esenzioni e riduzioni relative al pagamento della Tari e della Tasi per il Comune di Chieti. È una lettera rivolta ai cittadini da parte del Sindaco di Primio che spiega causa crisi globale e tagli drastici del Governo noi abbiamo scelto di non gravare sul budget delle famiglie. Così, come promesso, abbiamo abbassato le tasse per stare vicino a famiglie imprese. Ma noi abbiamo pensato di dare una mano alle famiglie, di sostenere le imprese e di rilanciare l'economia della nostra città con dei piccoli interventi ma significativi sulla tassazione locale. Però oltre a questo abbiamo voluto fare una campagna che faccia conoscere appieno i nostri cittadini quello che è il loro potere oggi di chiedere agevolazioni, di avere esenzioni o anche semplicemente di sapere che in quella zona della città vi sono possibilità in più per aprire un'attività commerciale o d'altro. Da un lato le agevolazioni per le famiglie, figli compresi dall'altro per chi sostiene il compostaggio domestico dei rifiuti e ancora nuclei familiari over 70 esercizi commerciali che dismettano le macchinette mangiasoldi esenzioni invece sono previste per gli inquilini titolari di contratti di locazione tutte le famiglie il cui unico reddito è costituito da pensione minima IMS e per le nuove aperture di locali pubblici. Abbiamo rivolto attenzione alle attività commerciali detraendo alcune tasse, ad esempio la Tari che ha una detrazione progressiva rispetto agli anni di apertura delle nuove attività abbiamo anche tolto e eliminato totalmente la Tasi per le attività commerciali e per le abitazioni che sono occupate da inquilini ma c'è anche una grande attenzione nei confronti delle famiglie con le detrazioni di 50 euro per ogni figlio o anche per le detrazioni in favore delle giovani coppie piuttosto che delle persone anziane insomma tanto sociale, tanta attenzione nei confronti di imprese e una iniezione di fiducia per chi vuole iniziare ad investire nella nostra città.